Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra i giornalisti dell'Associazione Stampa Parlamentare. Appare sempre più evidente l'esigenza e l'importanza capitale dei non estri isolati. Non c'è futuro al di fuori della Unione Europea. Di fronte alle grandi questioni, alle side numerose, tutte di carattere globale, in un mondo sempre più condizionato da grandi soggetti, i singoli Paesi dell'Unione si dividono tra quelli che sono piccoli e quelli che hanno ancora compreso di essere piccoli anch'essi. Sottolineo soltanto che è di grande rilievo aver evitato l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. È stata una scelta saggia, quella di mantenere con le istituzioni di Bruxelles un rapporto costruttivo, di confronto dialogante. Consegna a domicilio o da sporto? No, non stiamo parlando di cibo o di qualche prodotto che solitamente acquistiamo sul web, ma di cocaina. A Palermo bastava una chiamata al cellulare per vedersi recapitare una dose di polvere bianca. Il fattorino si presentava a casa in brevissimo tempo e poteva essere chiamato 24 ore su 24. Per chi invece non gradiva il servizio a domicilio, si poteva optare per una sorta di take away con ritiro della merce direttamente dal pusher e il giro di spaccio portato alla luce dall'operazione H24 Evolution che ha fatto scattare le manette per 16 persone. Tra i promotori dell'organizzazione e dispacciatori è stato arrestato anche Giuseppe Vallecchia, cognato di Fabio Chiovaro, capo del clan della Noce. Le indagini della polizia hanno appurato che lo spaccio era controllato meticolosamente con metodi duri. Ogni qualvolta qualche pusher provava ad alzare la testa? Mi ha detto che sono fortunato perché ho due figli, ha raccontato il pusher a un uomo, riferendosi a chi lo aveva picchiato. Arrivano novità sostanziali in Francia sulla patente per quanto riguarda le automobili. Oltre al PEL Ministero degli Interni ha infatti reso operative tre nuove norme che modificano le regole per il rilascio della licenza di guida. La novità di maggiore rilievo è senza dubbio la possibilità di conseguire la patente a 17 anni anziché a 18. I giovani che hanno compiuto 17 anni di età potranno quindi affrontare il test di guida in anticipo, avendo però la possibilità di guidare un'automobile soltanto se accompagnati. La seconda novità arriva sul piano dei simulatori di guida. La durata delle lezioni virtuali passa da 5 a 10 ore con vantaggi sia per le scuole guida. Ci saranno infatti meno auto impegnate per le strade, sia per gli allievi che così possono abbattere i costi della licenza. Una ricerca sui problemi globali di salute pubblica legati alle patologie orali a cura dell'Health Institute di Brisbane, Australia, rileva che la carie negli adulti colpisce il 34,1% della popolazione mondiale. La causa principale di questa patologia sta nel consumo eccessivo di zucchero, di cui le bibite sono la maggiore fonte nella dieta globale. Gli studiosi sostengono che ridurre il consumo di zuccheri aggiunti è essenziale per combattere l'insorgenza di carie. Marco Perez, uno degli autori dello studio, ha commentato La storia della lunga battaglia in nome della salute pubblica contro i colossi del tabacco si sta ripetendo. Ora questa volta si deve rivolgere verso l'industria dello zucchero.